Bentornati su soluzioni pc oggi andremo a vedere come accedere al programma ESU Extended Security Update di Microsoft per Windows 10 in modo facile e veloce così da avere gli aggiornamenti gratuiti per tutto il 2026 fino ad ottobre 2026 per prima cosa andiamo sulle impostazioni e sugli aggiornamenti di sistema qui ci comparirà la fatidica scritta che ci dice che gli aggiornamenti sono ormai disattivati a fianco troverete un link cliccate sul link e vi aprirà una nuova pagina in questa pagina oltre a spiegarvi un po di cose sui vecchi Windows più in basso troverete un link dove sarà possibile iscrivervi agli aggiornamenti per tutto il prossimo anno premuto questo link vi porterà su un'altra schermata che vi inviterà ad attivare gli aggiornamenti una volta premuto il link ritornerete a Windows con una schermata che vi chiederà la conferma dell'attivazione degli aggiornamenti potrebbe esservi richiesto l'accesso con un account Microsoft. Una volta confermato l'iscrizione agli aggiornamenti premete fine e il gioco è fatto. Vi ricordo che gli aggiornamenti sono gratuiti solamente qui in Europa mentre nel resto del mondo è necessario spendere dei punti Microsoft Rewards o attivare il backup in cloud con OneDrive. Spero di esservi stato utile in questo tutorial al facile e veloce. Iscrivetevi al canale per altre soluzioni PC e rimanete in contatto con noi tramite i commenti. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!